io dico 300 300 e rilancio 200 vedo no io me ne vado vedo doppia gli assi tre jack colore tutto rosso beh io ho finito non te la prendere amico non ti facevano giocare se non eri un pollo lombard farà la tua fine tra un paio di mani io non le permetto ne ho abbastanza di questa partita e ancora di più di questa compagnia io smetto di giocare quinnets allora restiamo solo noi tre si signor shaw restiamo solo noi tre signor clayton sarà meglio interrompere per cinque minuti mi pare che ci sia un po troppo nervosismo in aria oh andiamo cane adesso che cominciava ad andar forte preparami un mazzo floyd andiamo fra poco arriviamo alla stazione sono gli altri che perdono tu vai ancora bene fa come t'ho detto voglio un mazzo coi tre coi nove che gli diamo niente voglio che passi lo devo fare a pezzi quel bastardo di bookmaker da solo a solo ecco 400 lei signor jameson beh non era la mia serata questo mi ci voleva proprio anche a me a che ora arriviamo non lo so ehi manchi del chip ho la festa che mi scoppia sono in piedi da 36 cinquecento ecco le cinquecento e rilancio di mille io me ne vado io gioco carte due tre cinquecento i suoi cinquecento più mille i due mille e rilancio di due mila ecco i due mila signor clemens mi dia altri 10 mila dollari ecco i due mila dollari ecco i due calcio di miglia ecco i due miglia ecco i due miglia ecco i due miglia Visti. Quattro nove. Quattro, Jack. Adesso mi devi quindici bigliettoni, amico. Ho lasciato i portafogli in cabina. Non mi venire a raccontare balle. Quando si gioca a un tavolo come questo, ci si porta dietro i soldi. Chi me lo dice che poi non sparisci? Io no, Calca. Eh, va bene, facciamo così. Mando una persona da te fra cinque minuti. E bada di avere i soldi pronti o tutta Chicago saprà che non paghi. E non ti faranno più giocare neanche a rubamazzo. Danno i soldi di questi altri pezzetti. A presto. Grazie.